Due anni fa il gruppo PD al comune di Taranto non aveva dubbi, no al progetto Tempa Rossa del Leni per la costruzione dell'oleodotto che porterebbe il greggio dalla Val d'Agri all'Oionio dove, dinanzi alla raffineria, verrebbero realizzati due mega serbatoie ed un pontile di mezzo chilometro. Fu un no motivato dalle insufficienti garanzie fornite su sicurezza e ambiente nonché a fronte di un risarcimento praticamente inesistente. Ora Leni ha offerto concrete garanzie e la possibilità di discutere sul ristoro dell'impatto impiantistico dicono i consiglieri democratici ed i dirigenti provinciali del partito e noi possiamo aprire un confronto. Questo non vuol dire sì al progetto ma è solo un'apertura ad esaminare nuovamente la questione, del resto in linea con le decisioni del partito a livello nazionale e governativo. Insomma se ne può parlare ma a proposito di risarcimento il PD alza di molto la posta. Leni offre l'1% dell'ammontare dell'investimento i democratici chiedono il 10%. Piero Bitetti, presidente del consiglio e dirigente PD. Il centro di spesa che sarà diciamo nelle mani del comune e dell'amministrazione comunale abbia dei riscontri tangibili e positivi sulla cittadinanza e poi il tavolo tecnico deve garantire tempi certi a Leni perché non deve subire ulteriori danni, ulteriori perdite ma chiaramente rispettando ripeto l'ambiente, i cittadini e il territorio si può mettere il fiore all'occhiello per investimenti che possono essere importanti per la città e finalmente aprire e dialogare con noi, con Taranto.